Mary Jane ASMR Ciao tesoro, come stai? Sono contenta di vederti, credi, sono proprio contenta di vederti Ma sì, sì, sì Sai, ero particolarmente felice di questa tua scelta Come sai, io non sono una make-up artist Però mi piace aiutare le amiche nel trucco per le loro serate speciali E sono ancora più contenta in questo caso di vederti Sono contenta, sono super, 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 super contenta Ascolta, io ho deciso per questo nostro incontro Oltre a rilassarci così mentre ti trucco Ho deciso di lasciare le luci un po' soffuse Ok? Sì, perché così c'è Con le luci soffuse l'aria diventa ancora più rilassante Tanto comunque con questo tipo di luce io riesco a vedere A truccare, non ti preoccupare Ma raccontami piuttosto la serata di questa sera in quanto speciale Ah, bene, ho capito Ho capito, quindi non è il vostro primo appuntamento Ah, ok, ok Non pensavo fosse il vostro primo appuntamento, va bene, però Io, non lo so, avrei in mente qualcosina Però non troppo spiccoso, insomma Dimmi se tu vuoi un trucco un po' più leggero Oppure, non lo so, qualcosa che si noti un po' di più Ah, ok, ok Ti piacciono i colori rosati Ok, i violacei Va bene, va bene, va bene Ma non troppo marcati Ok, perfetto Allora, stai lì Comoda, 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 comoda Perché a te ci penso io, ok Dai, comoda, 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 comoda Comoda, 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 comoda Allora Com'è? Prima cosa Piuttosto hai messo la crema, hai fatto già Hai messo già la base a casa Hai messo già una crema idratante, ok Va bene, allora Vado direttamente di primer Sì, questa è la mia postazione pennelli Come vedi, anzi la postazione trucchi Ora Adesso, 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 adesso Io vado a mettergli Questo primer Che è colorato però Non copre la pelle Quindi Semplicemente fa cosa Prima del Termotit, 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 termotit Sì, sì, non ti preoccupare Sono tutti un'allertice Ok Viene, 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 viene Adesso Distendiamo, 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 distendiamo Primer, 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 primer Primer, 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 primer Ok Il primer è stato messo Ora passiamo Alle cose un po' più cari Ora Ti metterò Questo fondotit Della Prestige Allora Questo fondotit Come vedi Si chiama Vettendry 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 Perché Vettendry Perché questo è Praticamente Sì, è un fondotit Compatto Ma Si può fare Un po' più uso Lo si può utilizzare Anche come Cipri Fondotinta Il cipri Lo si può utilizzare Sia da bagnato Che da asciutto Allora Tutte due le soluzioni Sono impeccabili Va bene sia da bagnato Che da asciutto Non so se tu Hai delle preferenze Sei molto giovane Quindi possiamo metterlo Anche da asciutto Perché Non va a rimarcare Le rughe Ok Vedendo Vedendo Ok Vedendo Vedendo ti piace? ti piace la lampada? sì quella è la lampada di sale l'altra invece è la lampada che mi ha regalato la mia amica Emanuela ti piace? bellissime molto molto bella questa l'ho ricevuta per il compleanno e l'adoro pazzesca bellissima troppo troppo bella sì io quando voglio un momento di pace di relax le accendo le accendo sempre allora come vedi no 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 rimane no no assolutamente non rimane molto molto fonda ditta sul colpo ok? non rimane molto fonda ditta sulla pelle cioè copre giusto? copre bene però non è molto non ha l'effetto non è doppio insomma ok? non fa quell'effetto mascherone ok bene 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 Ok, allora Adesso andiamo a metterli Adesso andiamo a metterli Adesso andiamo a metterli Ok, questa palette Questo palette, questo palette, questo palette Io l'adoro un sacco Guarda quanti bel colori Qui ci sono i colori che vanno al caso tu Volevi colori rosati o violacei, vedi? Questo tipo di rosa Allora Io vorrei dire La coda finale dell'occhio Quindi sulla palpebra Hai detto che vuoi un rosa violaceo Quindi andrei con un colore più scuro Prenderei questo viola Quindi andrei di qua Dall'altra parte Andiamo con un colore violaceo Sul cotino finale della palpe Bene Poi andiamo a sfumare verso l'interno Allora Utilizzeremo questo qui Questo rosa qui Bellissimo Bello, 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 troppo, 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 troppo Bello Di qua Eccoci qua Poi andrei Nella rima inferiore Delle ciglia A passare un po' di Piola Piola Anche di qua Piola, 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 piola Piola, 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 piola Guardati, vedi? Guardati allo specchio Si, gira Ti piace? Dunque Preferisci liner Matita sugli occhi Oppure Niente Lasciamo solo l'ombretto E andiamo direttamente di mascara O è la matita Ok Sì, vabbè Io uso Una Anche una matita Io uso la matita Anche al posto delle liner Quando non ho le liner Questa qua E non sbava assolutamente A vero che non sia trascorsa una giornata intera Allora si inizia a sbavare Di solito Di solito non sbava subito com'è Le altre matite insomma Quindi la posso utilizzare anche come eyeliner Va bene, va bene Allora chiudi, 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 chiudi Di solito non sbavare O è la matita Andiamo solo sopra Passi Ebay di qua bellissimo questo make up, lo adoro anch'io, anche io faccio questo tipo di make up per le occasioni speciali ora ti metto il mascara, anche questo è della stessa marca del fondotinta è del primer prestige, di mascara, intensifica molto lo sguardo si io mi trovo benissimo con questi trucchi, guarda io te li straconsigli, costecchiano un po' però se li puoi trovare nei negozi di estetica, io li trovo nei negozi di barrucchiera di estetista si 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 penso che li puoi trovare anche su internet charl ti dico subito prestige lift volume lash plumping effect mascara mentre invece la palette quella lì è della revolution, buonissima, ottima qualità prezzo non è molto molto cara però devo dire che i colori si vedono bene e soprattutto si sfumano bene almeno le palette che ho avuto io dalla revolution hanno avuto sempre un'ottima per l'uso che ne faccio io comunque che non sono un gap artist hanno avuto sempre ho avuto sempre sono rimasta sempre soddisfatta molto profane sono infinite piacere 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 app 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 Tic toc tic toc Trovi che sia rilassante Toccare Soprattutto valsi Toccare Sì lo penso anch'io Soprattutto valsi E con questo abbiamo anche intensificato lo sguardo È arrivata Luna Luna vuoi essere truccata pure tu? Luna assiste sempre a questo genere di cose rilassanti Ok Adesso direi di passare al lipgloss Questo è molto economico però è buono L'ho preso da Shein È buonissimo Lipstick effetto matte Vedete Sheglam Inser有 Cucurri Cucurri Gucurri ok, 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 sì, lo stesso che porto io bene, per un trucco assai delicato ok, adesso passiamo all'illuminante, anche questo come la palette della Revolution, buonissimo nel senso che è buono, per me di qualità è un illuminante è un illuminante pazzesco, ne basta davvero poca, poca quantità di prodotto guarda come è fatto bene e il rilievo basta davvero poca, poca, poca quantità di prodotto per essere più illuminante, più belle allora io te lo vado a mettere con la punta di questo pennello perché questo è piccolo rispetto all'altro però chiaramente è sempre in grande come pennello quindi utilizzerò la punta quindi con la punta io vado a prendere un po' di illuminante, 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 illuminante e vado a mettere ok, qui sulla nasina ok bene ed anche l'illuminante, illuminante, illuminante, illuminante è stato messo ora passiamo a un po' di ora invece come tocco finale ti vado a mettere un po' di di blush 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 ok sei perfetta se vuoi ho anche dello spray fissante che aiuta a fissare meglio il trucco quindi te lo fa durare più a lungo visto che manca qualche ora all'appuntamento direi che mettere lo spray fissante su questo bellissimo make up che abbiamo appena fatto quindi adesso ti spruzzerò un po' di acqua rinfrescante ma in realtà è uno spray fissante ok resta ferma e chiudi 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 gli occhi chiudi chiudi gli occhi chiudi chiudi gli occhi ok chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi Non ti preoccupare, la quantità non è mai in eccesso perché non si nota sul viso Non ti preoccupare, ok, bene, tesoro il make up è finito, guardate pure lo specchio di me se ti piace Ok, ho fatto bene, sono contenta, allora, tesoro, io e Luna ti ringraziamo per aver scelto noi come make up artist Allora tesoro, ti aspetto quando vuoi tornare, ti aspetto sempre, ok, va bene, faremo anche un altro make up la prossima volta Ok, un altro tipo di make up, ok, tesoro Alla prossima, ciao